Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per l'ottava classe. Draghi ucenizi e draghe ucenize, dobrodoșli na saat tagliasco-glesica za osmi razred. Il tema di oggi è i brand di moda. Danaschnia tema je modni brandovi. Io mi chiamo Mattia Granata e oggi sono il vostro insegnante. Nacon ove leczie mocicete. Razumieti cratac text o taglianskim modnim brandovima. O stilovima odievania. Mocicete dopuniti text soblizzima glagola stare plus gerund. Mocicete napisati cratche od govore napitagna o svom stavu prema modi. Per la lezione di oggi vi servono Il quaderno La matita e la gomma Il cellulare o il computer con la connessione internet. Vi ricordo che potete mettere la lezione in pausa in qualsiasi momento. Le case di moda italiane Conoscete alcune case di moda italiane? Scrivetene cinque sul quaderno. Ricordatevi di fermare il video. Ecco alcuni brand Dolce e Gabbana Prada Versace Gucci Armani Le eccellenze italiane La moda in Italia è molto importante. In tutto il mondo sono famosissimi i brand e gli stilisti italiani. Il successo della moda italiana è iniziato negli anni 50 Grazie ai film e al cinema Che hanno fatto conoscere l'eleganza dei vestiti made in Italy. Ma la moda italiana non è solo vestiti. Infatti sono famosi anche gli accessori delle case di moda. Poi ci sono anche tanti brand che creano e vendono le scarpe. Infine sono molti i brand che si occupano di abbigliamento sportivo. Le città più importanti della moda italiana sono Roma e Milano. A Milano c'è una volta all'anno la settimana della moda, dove si organizzano le sfilate e gli stilisti presentano le nuove collezioni. Roma è famosa invece per le boutique del centro, dove si possono comprare i vestiti e gli accessori più belli e eleganti. Oggi la moda in Italia guarda al futuro. Le case di moda sono attente all'ecologia e sempre di più creano abiti fatti con materiali ecologici, che vengono chiamati ecosostenibili. Poi, gli stilisti non usano più materiali in pelle animale per fare i vestiti e gli accessori, ma utilizzano l'ecopelle, che è anche ecosostenibile. Parole da ricordare. Attività 1. Rispondete alle domande. Un quiz sulla moda. Ricordatevi di fermare il video. Usate il link o il codice QR. Ecco le soluzioni. Quando è iniziato il successo della moda italiana? B. Negli anni 50. Cosa hanno fatto conoscere il cinema e i film? C. L'eleganza dei vestiti. Per cosa è famosa la moda italiana? A. Per i vestiti, gli accessori, le scarpe e l'abbigliamento sportivo. Quali sono le più importanti città della moda? B. Roma e Milano. Perché è famosa Milano? C. Per la settimana della moda. Perché è famosa Roma? Cosa fanno le case di moda oggi? B. Creano vestiti fatti con materiali ecologici. Cosa usano gli stilisti al posto della pelle? C. Le copelle. Attività 2. Inserite la forma perifrastica stare più gerundio. Le professioni della moda. Cosa stanno facendo? Ricordatevi di fermare il video. Ecco un esempio. La truccatrice sta mettendo il trucco. Le risposte esatte sono Le modelle stanno sfilando sulla passerella. La sarta sta cucendo il vestito. Gli stilisti stanno creando gli abiti. Il fotografo sta fotografando la modella. Qual è il tuo stile? Ascoltate e leggete i fumetti. Ragazzi, quando vi vestite? Che stile avete? Io ho uno stile alternativo. Mi piace la musica rap e mi piace vestirmi come la mia cantante preferita. Io ho uno stile sportivo. Faccio sport ogni giorno perché sono un atleta. indosso sempre abiti sportivi. E tu, Lorenzo? Io ho uno stile casual. Mi piace indossare cose semplici, ma alla moda. Però, quando ci sono le occasioni importanti, ho uno stile classico. Mi vesto elegante. Lo stile italiano. Per gli italiani è molto importante lo stile. Per questo ci sono delle regole per vestirsi bene. Vediamole insieme. Quando state andando a una festa, indossate solo vestiti eleganti. Nel tempo libero, vi potete vestire casual. Ma attenzione! Per esempio, se state indossando scarpe rosa, dovete avere un accessorio dello stesso colore. Tre. Gli accessori sono molto importanti. Se state uscendo con gli amici e c'è il sole, indossate sempre gli occhiali da sole. Sarete così dei perfetti italiani. Quattro. Non è importante comprare abiti costosi. Importante è vestirsi bene. Se state guardando in un negozio un vestito o un accessorio che vi piace, compratelo anche se non è di marca. Parole da ricordare. Attività 3 Rispondete alle domande. Test. Quanto sei italiano nello stile? Ricordatevi di fermare il video. Rispondete con sempre, qualche volta, mai. Ecco le domande. Gli accessori per te sono molto importanti quando ti vesti? E. Se un vestito è bello ma non è di marca, lo compri lo stesso? F. Indossi gli occhiali da sole? G. Abbini i colori? E ora, risolvete il test. Ricordatevi di fermare il video. Ecco i punteggi. Sempre tre punti. Qualche volta due punti. Mai un punto. Soluzioni. Da 18 a 21 punti. Sei un perfetto italiano. Ami la moda e la segui con piacere. Da 13 a 16 punti. Sei un italiano a metà. Ti piace seguire la moda ogni tanto. Però la moda non è molto importante per te. Da 7 a 10 punti. Non sei per niente un italiano nello stile. Per te la moda non è importante. Attività 4. Rispondete alle domande. Ricordatevi di fermare il video. 1. Quanto è importante per te la moda? 2. Quanto spesso compri vestiti di marca? 3. Che stile hai? 4. Perché hai questo stile? Ecco le risposte possibili. Per me la moda non è molto importante. Risposta 2. Compro vestiti di marca qualche volta. Risposta 3. Ho uno stile sportivo. Risposta 4. Perché mi piace fare sport e lo faccio ogni giorno. La lezione finisce qui. Arrivederci alla prossima lezione. Risposta 3. Risposta 3. Per te la moda non è molto importante. Corso la pasta e lo faccio ogni giorno.